Benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui presso il centro sportivo, non poteva mancare, faremo super granvolta la sbarra, sono qui con questi super ginnasti, alla mia sinistra abbiamo il ginnasta della nazionale Simone Bresolin Ciao, ciao a tutti E alla mia destra l'ex ginnasta Chiara Orru Oggi vi faccio fare le granvolta la sbarra, faremo anzi una sfida tramite di quante granvolta riusciremo a fare in minor tempo Con te invece riprenderemo le vecchie granvolte, dato che mi avevi detto che da un po' che non fai questo esercizio, vediamo se riusciamo a riprendere quella skill Useremo ovviamente le cinghie per tenere le mani ben agganciate senza far scivolare le mani, useremo i guanti per scivolare meglio Noi siamo pronti e tra poco iniziamo Allora ragazzi, prima sfida, Simo ti voglio sfidare, quindi maggior numero di granvolte Prima sfida in... facciamo massimo un minuto? Eh beh, direi di mettere un limite Sì, se no andiamo all'infinito Quindi in un minuto maggior numero di granvolte, sia prone che supine è uguale Tanto viene considerata sempre una rep Quindi falle pure con calma, non per forza veloci Quindi maggior numero di granvolte in un minuto di tempo Sei carico? Certo 3, 2, 1, let's go Con calma, con calma Ole! 2, anzi ti tengo la sbarra Ma che uno è frusta, siamo a 10 secondi Questa è sesta Ho già perso il conto 7 forse 8, te quanto sei? Non so Non sappiamo Questa è la decima Dai, 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 tira, tira 12, siamo a 30 secondi 13 Stiamo per toccare il pavimento 14 15 16 17 Dai, dai, dai 18 19 45 secondi 20 Sento il laccio che se ne va Oddio Allora vuoi fermarti? Quanto manca? Mancano 5 secondi Dai, dai, dai Ho perso il conto quanto siamo Ok, stop Un minuto Oddio Mamma mia, dovevo tenere qua la sbarra o dovevo dare pressione? Era il limite allora Devo sganciarlo di molto di più Allora Ok, adesso è il mio turno Vediamo di farne più di 20 Se riesco In un minuto di tempo Ok, io sono pronto 3 2 2 1 Via Via Let's go La blocco in planche È forte? Si, si muove la cifra Oddio È come andare sulle montagne russe Mi gira già la testa Bravo, dai frusta, dai frusta Mi stai già girando la testa 5 secondi Non sto capendo niente Stai, cambio la direzione Dobbiamo fare il supine 20 secondi No, è sicuro Devo farlo preso a supine 10 Dai, dai, dai Non si capisci niente Grande viaggi Grande te Mi ha segnato le scale Più che altro ragazzi Arrivano gli svardioni Proprio Cioè, nonostante il guanto Sento le mani bruciare Però ci sta Quando arrivi davanti Mantieni la candela Ok E poi mi dai una mano tu Hai visto cosa succede Va bene Tu devi andare di là Con le ascelle Ok 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 Prossimo a partire La mitica Chiara Facciamo adesso la gran volta Non la gara che abbiamo fatto noi Ma il tutorial della gran volta Su in verticale Ti aiuto con la frustata Vai Su Bravissima Sì Frusta Chiudi Vedi Tu hai chiuso con le spalle Per questo che sei scesa giù Ok, sì Cazzo Oh mio Dio Rissali su con la kip Dai, facciamo un altro tentativo Su in verticale Frustata Non chiuderti con le spalle Sempre aperta Vai Che ce l'hai Su Bravissima Vai Frustata Squadra Brava, brava, brava Stai composta Hai chiuso di nuovo con le spalle Sali in pull over Come sei comoda tu Ok Aggancia bene le mani Come va? Spero bene Spero bene Tieni sempre impugnata la sbarra al massimo Dai, faccio l'ultima Dai Se esce bene fanno un'altra Facciamone proprio due Però non chiudere con le spalle Su in verticale Dai Su Su Sì Diretto Perché non sei andata su in verticale No, no Basta Tutto a posto Hai preso le botte No, no, no Più che altro ho paura di sganciare Intantissimo No Ma non ti sganci su quello Solo dai Una gran volta Il video finisce qui per oggi È stata una giornata entusiasmante Molto bella come esperienza Perché sono anni che non faccio le gran volte Quindi mi sono divertito Che dire ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Un bel commento Iscrivetevi al canale Troverete anche i loro contatti sotto il video Link in descrizione E noi ci vediamo al prossimo Video Non se l'aspettavano Prossimo video Ciao a tutti Ciao